Anche la Gadirova non ha ottenuto un punteggio particolarmente elevato alle parallele 12 e 80 frutto probabilmente proprio dell'errore che hai sottolineato Igor e intanto qui siamo al volteggio con Emma Spence Sì abbiamo visto uno Yurchenko quindi la rondata a flick, salto teso e un avvitamento e mezzo molto buono l'arrivo, qualche imperfezione sulla fase dell'avvitamento con le gambe un pochino flesse comunque sia un buon salto, 4 decimi in meno Grazie